Non poniamo veti su Conte, non poniamo veti su nessuno, non subiamo veti e sicuramente non c'è solo Conte. Quello che ci interessa discutere, così come ci interessava discutere nei mesi passati, è come si affronta non solo l'emergenza sanitaria, come si affronta la crisi economica e la crisi del lavoro in questo Paese. Non sosterreste un governo di Maio? Noi partiamo dal programma, insisto, sulla base del programma che si individua, si determina se ci sono preclusioni o veti da parte di Tagliaviva, questo sta dicendo. Ho detto che noi non poniamo veti e non ne subiamo veti, sia chiaro.